Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà all'Aquila il prossimo 16 settembre per inaugurare l'anno scolastico. Il Presidente sarà in un MOSP e mentre per il Sindaco Pierluigi Biondi si tratta di un segno di vicinanza agli studenti aquilani, i vari comitati sono abbastanza critici, come ad esempio il Comitato Oltre il MOSP. Dopo dieci anni, infatti, i ragazzi aquilani torneranno nel prossimo anno scolastico ancora una volta sui banchi dei MOSP e non in vere scuole ricostruite, nonostante ci siano da tempo i soldi in cassa. Considerando le scuole comunali, i lavori sono iniziati soltanto nella Maria Leventre, in questo MOSP provvisorio Mattarella incontrerà gli studenti e nella scuola di Arischia. Per il resto si è all'anno zero e a questo si aggiunge la probabile chiusura del convitto nazionale a causa del ridotto numero di scritti. Siamo proprio all'anno zero della non ricostruzione scolastica. Siamo ancora che abbiamo tutti i MUSP che c'erano nel novembre del 2009. Dopo dieci anni nessuna scuola pubblica è stata ricostruita. Quindi il presidente Mattarella visiterà i moduli ad uso scolastico provvisorio. Noi speriamo che glieli facciano visitare perché si renda conto effettivamente della situazione di non dignità che vivono studenti e studentesse aquilane, costrette da dieci anni a lavorare nelle lamiere, nei MUSP, nei container. Nonostante i soldi che sono arrivati da subito sul territorio presso le istituzioni preposte a spenderli e a riconsegnare al nostro territorio, alla nostra città, scuole dignitose, belle, all'avanguardia, soprattutto sicure. Quindi vorremmo che lui sapesse che ci sono i soldi, ci dovrebbero essere anche le forze disponibili, tecniche per utilizzarli e spenderli, perché uno dei pilastri, ad esempio, della campagna elettorale dell'ultimo sindaco è stato proprio la costituzione di una task force per la ricostruzione scolastica. Per sua stessa ammissione, questa task force adesso è ridotta a due unità virgola cinque. Vorremmo che ci si preoccupasse di questo, si trovassero energie per riconsegnare veramente le scuole a una popolazione che ormai sta dimenticando cos'è una scuola vera.